Ciao a tutti, ben trovati in questo nuovo video. Oh, bene, anche oggi sto usando la mia mitica videocamera nuova. Eccomi qua. Intanto, come state? Tutto bene? Oggi sono qua per fare un video particolare che ci tengo a chiedervi se per favore ci potete dare una mano. Vi ringraziamo. Allora, siccome che devo registrare l'altro video poi nel mio telefono e mi guardo per cosa devo registrare che non mi ricordo più e evidentemente sono troppo stanco. Allora, volevo chiedervi una cosa però prima di dirvi che cosa vi devo dire. Sì, la... Noi, non mi ricordo. Noi, non mi ricordo. Noi, non mi ricordo. Eccomi qua, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo sempre il 20 febbraio 2021 di 19.45. Avevo già registrato un video in questo giorno qua, quindi siccome voi l'avete già visto, ma non vi dirò che cosa andate a vedere. Sono qua per fare una spursurizzazione di un canale che si chiama Riappassionati Campane Vede e Simulate. Allora, questo canale qua è un canale che abbiamo aperto insieme io e Michele Dalmaso, che vi chiedo per favore di seguire anche io sul canale YouTube privato e seguite anche questo canale qua che condividiamo insieme. Ovviamente in questo canale qua tratteremo un video di campane per vere, dei campanili, e anche qualche volta dei funghi. Ma poi abbiamo portato il suo video dei funghi. Perché a me a Michele piace un tanto, vabbè, so che tutti dicono, ma i funghi fanno schifo, fa da 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 da. Vabbè, ragazzi, io veniamo a pensare che alcune chiesi se non hanno la possibilità di avere campane. Non bisogna ogni volta fare protesta. Uno non può fare quello che vuole nessuno, nella barrocchia. Giusto? E mi raccomando, vi do il link sotto per andare a vedere il canale e per favore iscrivetevi, non fate i folpetti, iscrivetevi perché serve a noi per crescere. Siccome che noi l'abbiamo aperto da poco, non vogliamo tanto che voi ci date la mano a crescere. Perché questo canale qua è giusto che lo vogliamo portare avanti e non chiuderlo. Perché avevo anni fa anche io un canale con un mio amico, ma poi l'abbiamo chiuso perché non andava bene, poi perché scassaggiava la partecipazione e bla bla bla. Quindi in questo canale qua, propongo che ci sia tanta partecipazione e tanto rispetto per chi sta dietro allo schermo e per chi edita il video. Ok? Niente, io adesso vi saluto, resisto altri tre video e poi vi... E ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale di Minuti Michele, quello che facciamo insieme e al prossimo video. Ciao!